Buon pomeriggio. Nel nostro spazio dell'Associazione Paese delle Donne oggi vi parliamo di una eccellenza, un'esperienza cooperativa a Reggio Emilia che ha un inizio novecentesco e un proseguimento fino a oggi estremamente interessante. Ne parla con noi di questa case popolare di Mancasale e Coviolo, società cooperativa, Roberta Pavarini. Roberta Pavarini è la presidente delle case popolari di Mancasale e Coviolo, società cooperativa ed è un abitante anche, poi ci dirà come e quando e perché, ed è una persona che avendo avuto un passaggio istituzionale importante come consigliera comunale ed è comunque orientata nell'attivismo politico da sempre e quindi è la persona che ci può inquadrare meglio l'attività di questa cooperativa, come è nata, perché è nata e le attività che svolge, oltre che naturalmente i progetti in futuro. Ci può anche dire nel passaggio del femminile quali e quanta e che tipo di presenza femminile c'è in queste case popolari e come le qualità dell'accesso e il tipo di partecipazione. Cominciamo, andiamo per ordine, cominciamo dalla storia di queste case popolari di Mancasale e Coviolo, società cooperative. Intanto qui si parla di due, come si sono ridotte all'una. Esatto, bene, salve a tutte e a tutti, questa è una storia che inizia nel 1908. A Reggio Emilia un gruppo di contadini recentemente inurbati nella città, nel momento in cui le campagne venivano lasciate e la grande fabbrica sorgeva proprio a pochi metri da questo luogo a nord della città, si organizzano per darsi un alloggio dignitoso e salubre e costruiscono la prima casa con 11 alloggi, i ricoveri per gli animali da cortile, perché si doveva dare risposta al bisogno primario dell'abitare, dell'avere un tetto sulla casa, dell'alimentazione, quindi maiali, galline, conigli e anche al consumo per cui nasce anche la prima cooperativa di consumo. Siamo nella storia del socialismo prampoliniano, le prime cooperative in ambito di consumo agricole e di abitazione come la nostra nascono proprio in quel periodo, in questo fermento culturale in cui la mutualità è stata la scelta obbligata per poter far fronte alla povertà, che chiaramente la generazione delle città che si andavano a costruire esprimeva. Quindi è un'impresa, oggi un'impresa storica d'Italia, che è ultracentenaria e che come missione ha quella di dare alloggi a costo eco, quindi un costo inferiore al canone di mercato, ai propri soci. e questa storia si irrubustisce più vicino ai nostri tempi, già nel millennio successivo, nel 2006, quando questa cooperativa si fonde con un'altra storica cooperativa, sempre nata nella stessa decada del Novecento, a sud della città. Quindi il nord e il sud un po' si fondono e quindi il nome viene composto in case popolari di Mancasale e Coviolo e quindi c'è una fusione nel 2006, quindi abbastanza recentemente. Perché? Perché se agli inizi queste cooperative, anche nel territorio reggiano, erano piuttosto diffuse negli anni Ottanta del Novecento, davvero ne contiamo oltre una ventina, poi pian piano diciamo che le difficoltà nella gestione, perché noi dal punto di vista giuridico e amministrativo siamo equiparati ad un SBA, quindi con tutte le difficoltà e le regole da rispettare di questo tipo di società, pertanto molte di queste cooperative storiche si fusero con altre, e quindi ora ci sono agglomerati un po' più grossi. La nostra rimane una delle cooperative più piccoline. In Emilia-Romagna ne sopravvivono, diciamo, a circa una quarantina, di cui la metà più o meno sono affiliate a Lega Coop, come noi, e noi siamo quella che dal punto di vista della produttività e del patrimonio netto è la più piccola, ma appunto rappresentiamo comunque la nostra comunità e le nostre 70 famiglie che abitano nei nostri alloggi. Da un punto di vista di abitazione, è una cooperativa di abitanti. Questi abitanti chi sono, diciamo, negli ultimi periodi, negli ultimi tempi? Allora, gli abitanti, nel nostro caso, stiamo parlando di persone di ogni origine e prevalentemente famiglie con figli. Gli alloggi vennero costruiti, l'ultima edificazione importante degli anni Ottanta, in modo da poter contenere, ospitare famiglie numerose, da tre, quattro, cinque persone, nel tempo, proprio perché la nostra cooperativa è una cooperativa a proprietà indivisa, e questo è un indiscrimine importante, perché le cooperative di abitanti possono essere a proprietà divisa, dove ognuno è proprietario del proprio alloggio, o a proprietà indivisa, come il nostro caso, dove ogni socio ha in uso, in godimento, a tempo indeterminato il proprio alloggio, nessuno lo potrà mai mandare via, a meno che non violi ovviamente lo statuto, i regolamenti, ma appunto può abitare fino a quando può e vuole nella cooperativa. Ci sono giovani mamme con figli, famiglie, ci sono persone anziane, ci sono nuclei che nel tempo sono modificati proprio per il trascorrere delle generazioni, ci sono persone di origine straniera che hanno trovato qui la possibilità di avere un alloggio a canoni adeguati, e soprattutto hanno potuto trovare anche non solo un luogo in cui abitare, ma un contesto di mutuo aiuto, di solidarietà. Questo è molto importante, la qualità dell'abitare, che è molto simile al moderno co-housing, voglio dire, dove si condividono esperienze, dove si condivide, dove una volta facemmo una foto nel nostro cortile con tre anziane e signore sedute su una panchina, perché le anziane e signore si ritrovano sempre a chiacchierare, a lavorare all'uncinetto nel pomeriggi, adesso si fermano a chiacchierare, questa è la nostra videosorveglianza, diciamo, quindi anche la sicurezza è garantita dal presidio delle persone che lì abitano. La qualità di socio rispetto all'abitare questi locali si può ereditare? Allora, la qualità di socio e il rapporto associativo è strettamente personale, naturalmente, però nel caso in cui un socio sia assegnatario di un alloggio e quindi il socio conviva con altre persone, abitanti, ma non socie, nel caso in cui il socio venisse a mancare, la persona convivente può rimanere ad abitare nell'alloggio, ovviamente si farà poi socia perché è obbligatorio avere rapporto associativo per poter essere assegnatario di un alloggio. Quindi queste sono situazioni anche di protezione, di protezione sociale, oltre che di semplice abitazione. Quali sono le attività che si svolgono all'interno della vostra cooperativa? Allora, nel tempo si sono sviluppate attività soprattutto di tipo sportivo e culturale, cioè si è pensato, i nostri antenati, potremmo ormai dire, hanno pensato soprattutto attorno agli anni 60 e 70, quindi traguardata l'epoca buia del fascismo, a cui la cooperativa comunque sopravvisse con uno stratagemma, per cui non venne chiusa, pur non piegandosi al fascismo, voglio dire, negli anni 70, negli anni della nostra quasi rivoluzione culturale, diciamo così, lo sport fu individuato come una leva importante, soprattutto per le donne, come elemento abilitante. Non c'erano ancora le squadre sportive di pallavolo, ad esempio di altri sport, perché non stava bene, si diceva che le donne uscissero, andassero al bar, noi facciamo il bar, facciamo una pista polivalente, dove si poteva pattinare, dove si poteva giocare a pallavolo. Nel 78 si ospitò qui una partita con la nazionale cubana di pallavolo, quindi queste statuarie, atlete cubane, vennero a giocare, era un'estate caldissima, in cui chiacchierarono, insomma, si faceva il cinema all'aperto, si faceva questo sport, si facevano tornei sportivi con i soci, dove tutti si vestivano in modo strano, perché ognuno faceva la propria squadra in modo giocoso, si costruivano poi anche dei legami differenti, cioè la cultura passava anche attraverso una militanza politica importante, nelle nostre sedi, nelle nostre abitazioni, o perlomeno nei nostri fabbricati, oltre l'abitazione abbiamo sempre ospitato anche delle altre attività, tra queste sempre la sede all'epoca del Partito Comunista e poi tutte le sue varie evoluzioni, abbiamo ospitato circoli arci per poter sviluppare un'attività ludico-recreativa, ora abbiamo iniziato su fronti anche artistici con il dare spazio ad un'associazione di poete che hanno nella nostra saletta civica un presidio culturale, un fondo librario, abbiamo investito nell'arte anche attraverso, con le nostre mura, perché tutte le nostre case sono state dipinte nel 2010 da artisti giovani da tutto il mondo che hanno appunto affrescato le nostre pareti con dei murales, murales che hanno un impatto sia, diciamo così, di messaggio, veicolano un messaggio sia politico, uno proprio titola il mercato finanziario, non ti sottomette e l'altro riguarda la transizione ecologica e quindi il fatto, l'auspicio che la natura abbia il sopravvento rispetto all'inquinamento e quindi c'è tutta una matrice più ecologista. Ecco, queste sono un po' le attività che cerchiamo di coltivare. Quindi dal 1908, se ho ben capito, come prima cooperativa di Mancasale, dal 1917-18 all'incirca, se sbaglio e chiedo scusa, per la cooperativa di Corbiola, in questo luogo non sia soltanto un esperimento di relazione abitativa tra, diciamo, tra chi è il proprietario delle mura e chi le abita, ma anche di tipo di vissuto all'interno, di relazione con la società e a questo punto anche un posto dove si produce cultura, sport e quant'altro. Certamente è un bel luogo dove abitare. Diciamo che lasciamo l'ultima parte di questi pochi minuti dedicati alle case popolari di Mancasale e Corbiolo, società cooperativa parlando al femminile. Nella lunga storia di questa cooperativa, le socie sono sempre state una minoranza, si è trattato di che tipi di socie, cioè madri di famiglia, donne sole, vedove, diciamo uno screening di queste... Ma le nostre soci innanzitutto sono la metà dei soci, quindi c'è una parità, ecco. E soprattutto il dato interessante è che dei nostri circa 70 alloggi che appunto sono dati in godimento ai soci, la metà sono abitati da donne, donne che proprio o sono appunto capofamiglia, per cui si sono intestate comunque a loro nome la casa e vivono lì con marito e figli, donne single, donne che sono rimaste vedove, donne che hanno figli e che abitano con i loro figli, di diversa età, quindi anche anziane che sono rimaste con un figlio, ad esempio. C'è comunque una grande richiesta, insomma, di abitare nelle nostre case da parte di giovani ragazze, ecco, che qui trovano la possibilità, con un lavoro da sole, di poter vivere degnitosamente e di trovare anche un aiuto. Anche, insomma, il passaggio recente di trasmissione, insomma, della gestione della cooperativa ha visto non solo l'elezione di una presidente, di una vicepresidente, pure anch'essa donna, siamo sia io che Tiziana, la vicepresidente, ma nel consiglio di amministrazione su 13 componenti 6 sono donne, quindi c'è molta attenzione su questo tema, ma soprattutto, insomma, le donne si stanno conquistando il loro spazio, ecco. È molto naturale, cioè il ruolo femminile all'interno della cooperativa è un po' d'accollante, perché il dialogo tra le culture, tra le cucine diverse, tra i mestieri diversi, il prendersi cura comunque degli altri passa in modo naturale attraverso una relazione femminile, quindi qua come anche altrove, in questo non penso siamo molto diversi da altri contesti di quartiere, però certamente il fatto che la cooperativa nasca proprio anche per assottigliare differenze di genere, per promuovere anche le fragilità, perché è stato anche questo, quindi accogliere le fragilità, e questo ha favorito chiaramente questo tipo di contesto. I rapporti con le istituzioni locali penso siano buoni a questo punto, data la proposta che fa la vostra cooperativa. Sì, sì, sì. Noi abbiamo sempre, cioè nel nostro DNA è sempre stato iscritto il rispetto forte per le istituzioni e dove si poteva la collaborazione. Noi non riceviamo nessun contributo pubblico perché siamo un soggetto privato e quindi non c'è questo tipo di aiuto, ma certamente c'è una volontà nostra di relazionarci con il comune piuttosto che con la regione perché la nostra è un luogo di comunità, è un luogo di cerniera che può favorire comunque delle dimensioni, delle accoglienze. Non è raro che i servizi sociali ci interpellino o indirizzino anche verso di noi loro utenti, persone prese in carico e che si stanno costruendo un percorso di autonomia. Abbiamo sempre partecipato alle iniziative del quartiere per offrire quello che siamo capaci di fare, quindi non solo il tema della casa, ma il tema di saper aggregare, saper costruire iniziative culturali. Ne abbiamo costruite tante su diversi temi, sulla storia locale, sulle trasformazioni, sulla geostoria, invitando qui persone ed esponenti anche di altre amministrazioni sia locali che anche comunità straniere. Sono venuti francesi, sono venuti portoghesi, cioè abbiamo questa volontà insomma di curiosare un po' in giro per il mondo. E con questa curiosità noi chiudiamo questo breve spazio e ringraziamo moltissimo a Roberta Pavarini e bisogna concludere ovviamente augurando ulteriore secolo e più di vita alle case popolari di Moncasali e Corbiolo, società cooperativa. Un esempio credo da seguire. Arrivederci. Grazie, grazie al Paese delle Donne. Grazie. Grazie.